Signori e signorine, bene, bentornati in questo nuovo video sempre qui su MV Hardware con il vostro Marco Verdoliva in un appuntamento dove cerchiamo un attimino di parlare di build e configurazioni. Ma come ancora non siete iscritti a questo canale? Male, malissimo, iscrivetevi, andate giù, il tasto iscriviti è bello, grande, enorme, si vede, descrizione, vari link e soprattutto andate nel canale Telegram delle offerte, MV Hardware Offerte, questo bellissimo canale dove cerchiamo di postarvi delle ottime offerte, prodotti in generale, quello che riusciamo a reperire. Allora, parliamo di un argomento abbastanza, diciamo, interessante che non tutti diamo per scontato, cioè il fatto di riuscire o meno a fare una build decente con che budget lo vedremo subito. Le schede video sono scese un po' di prezzo, ne abbiamo parlato, ok, ne abbiamo fatto un video, ne ha parlato anche un po' il mio carissimo amico Falzotec, ovvero Saddi, e bene o male siamo un po' tutti dello stesso parere, la domanda è scesa in queste ultime settimane, si riescono a trovare buone GPU come la 3070, 3070 Ti intorno alle 1000€. Sono dei prezzi sicuramente alti, perché continuano ad essere dei prezzi alti e farsi una build oggi di fascia medio alta comunque vuol dire spendere almeno un 2000€, quindi non è, non cantiamo subito vittoria, perché i prezzi non è che sono proprio dei prezzi abbordabilissimi, però già è qualcosa rispetto ai mesi scorsi. Ovviamente non state a guardare il singolo componente di per sé, perché diciamo una build abbastanza di esempio per farvi capire un po', si possono cambiare un po' di cose, si può mettere qualche componente un poco meglio, un poco peggio, poi dipende un po' da quelle che sono le vostre necessità. Il processore su cui ho puntato questa build è un 5600X, anche se fondamentalmente avrei preferito andare su qualcosa con un numero di core superiori. In questo preciso istante però, trovandosi a 287€, che è un prezzo veramente diciamo buono rispetto a quelli che sono stati i prezzi del 5600 fino a aprile-maggio, riuscire a fare una build comunque prestante su questo processore è molto 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 più semplice rispetto se andiamo su componenti Intel come gli 11000, perché a questo punto converrebbe prendere un 11700K, che costa leggermente in più, abbinarci una scheda madre più costosa, quindi capite che si va a finire su un'altra fascia di prezzo. Per quanto riguarda la scheda madre, io ho preso una tranquillissima B550 Tomahawk da 150€, che è una scheda di fascia media che vi permette comunque di gestire un 5600 in tutta tranquillità, e perché no, se vorrete fare un upgrade a qualcosa di superiore, senza grossi problemi, lo potete fare. Ovviamente non è una scheda top di gamma, non è un X570 di fascia alta, quindi comunque è da tenere in considerazione che stiamo cercando di limare in qualche modo qualche componente, non è una build overkill, questa è una cosa che dovete tenere a mente. Doppio banco da 8GB di RAM, classiche Ballistic eSport della Crucial, e CL16, cosa molto importante, sono 3600MHz, ma almeno delle CL16. Non prendete quelle Corsair, Vagens, CL18 e cose del genere, perché voglio dire, 100€ le RAM sono aumentate, purtroppo è vero, ma almeno delle CL16, mo che siamo quasi sul finire delle DDR4, ci vogliono e come. E per dissipare ovviamente il 5600X, che non è un processore estremamente caldo, attenzione, ma nonostante nemmeno uno dei più freddi, ci vuole comunque un buon dissipatore. E io ho scelto un compromesso fra qualità-prezzo in questo Arctic, che è il Freezer 50, che tra l'altro abbiamo visto anche qui su questo canale, in una recensione, che costa relativamente poco, circa 45€, ma è un dissipatore a doppia torre, ha pure un RGB che è sempre carino, non è tra i migliori dissipatori doppia torre, ma per quello che costa, effettivamente vi tiene tranquillamente a base il 5600X, anche se voi volete overclockarlo un pochettino. SSD da 1TB, ovviamente qui ci sono varie opzioni, potete scegliere un singolo SSD, potete puntare qualcosa in più, scegliendo un Gen 4, potete aggiungere hard disk, insomma, potete fare tante cose, però il minimo indispensabile, diciamo così, è un SSD che sia buono, di buona fattura, un NVMe, io ho scelto il KC2500 di Kingston, che è un top di gamma di Kingston, anche questo, tra l'altro, visto qui su questo canale, e almeno, diciamo, come base. Poi, se volete espandervi dal punto di vista dello storage, potete prendere un po' quello che vi pare. Un buon alimentatore è l'RMX, cioè sono i nuovi RM di casa Corsair, che sono stati lanciati qualche mese fa sul mercato, ci sono tanti alimentatori su questa fascia, tra l'altro questo non è nemmeno uno dei meno costosi, costa 145€, è un 850W, full modulare, ci vale tutti, potete risparmiare qualcosina andando su qualche modello, diciamo, che ha qualche anno in più, ci sono i vari NZXT, che sono, diciamo, su piattaforma Seasonic, ci sono i Seasonic stesso, gli LC Power, i full modulare, che abbiamo visto anche qui su questo canale, che si trovano anche su Amazon, insomma, ci sono tanti alimentatori, e ovviamente prendete qualcosa che sia decente, perché la scheda video ciuccia e non poco. Poi, solito discorso su case, ventole e cose varie, andandoci a mettere un semplice Fante X-Eclipse da 90€, il P400i, che è già a tre ventole ARGB incorporate, poi potete scegliere qualsiasi soluzione, il case, tra virgolette, è sempre, diciamo, a gusto vostro, purché abbia un buon airflow, e andandoci a mettere la scheda video, che mi sono tenuto per ultimo, in questo caso io avevo inserito una Gaming X Trio, una 3070 Ti, è andata in preordine, sempre sul nostro canale offerte, a quasi 200€ in meno, abbiamo postato anche altre 3070 Ti, se non mi sbaglio, la Gigabyte ha qualcosa in meno addirittura, quindi ovviamente è sempre un'ingognita, inserendo una scheda, diciamo, sulla fascia delle 1200, diciamo che il conto finale viene intorno alle 2200€, se riuscite a trovare ovviamente l'offerta giusta, risparmiate anche qualche cosa. È poco? Assolutamente no, perché non stiamo parlando di componenti top di gamma, se iniziamo a mettere, ad esempio, un 5900X, una X590, o se vogliamo andare su Intel, con un 10850K, che secondo me è il miglior processore attualmente, per rapporto qualità-prezzo da scegliere, il budget inizia a levitare. Le 3070 Ti sono delle schede ottime per il gaming, senza nessun problema, giocate tranquillamente in 1440p, su parecchi titoli anche in 4K, ovviamente però ci sono le top di gamma 3080-3080 Ti che costano ancora sulle 1400, 1500, 1600 a salire, quindi rendetevi conto che rispetto ai prezzi che c'erano l'anno scorso, ovviamente qui con 2000€ stiamo avendo un PC dalle performance ovviamente altissime, perché un 5600X accoppiato ad una 3070i fa giocare in maniera tranquilla veramente senza problemi, però voglio dire che stiamo spendendo comunque un bel po' di soldi, 2000€. Sarà possibile fare una configurazione del genere spendendo di meno magari nei prossimi mesi? Io mi auguro di sì, ma ragazzi non è nulla diciamo di scontato, perché se sembra tra virgolette che un po' gli scalper si siano diciamo dileguati, un po' diciamo la parte relativa a mining eccetera eccetera sta ormai si è stabilizzata, quindi non si stanno lanciando su nuove schede, un po' in generale l'estate, il fatto che siamo liberi e tutti quanti, spoiler, attenzione che a settembre-ottobre rischiamo di nuovo di chiuderci in casa, comunque fatto sta che le schede restano un po' online prima di essere acquistate, ma non è detto che comunque noi vedremo un ulteriore abbassamento dei prezzi da Mo fino a Natale, io lo spero, ma vi ripeto sempre la stessa storia, occhio, oggi attualmente con 2000€ riuscite a farvi una configurazione del genere, che è una configurazione di tutto rispetto. Benissimo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate in generale dei prezzi attuali, se saresti orientati su un componente piuttosto che un altro, se diciamo siete riusciti a chiudere la build finalmente con i prezzi diciamo relativamente minori che stiamo vedendo da qualche settimana con le schede video, e io come sempre vi do appuntamento in settimana con un nuovo video sempre qui su MV Hardware. Ciao ragazzi! Ciao!